Buonasera, siamo arrivati in questa sera per celebrare le cose. La prima cosa, come è essenzionato all'inizio di questa celebrazione, sono i 25 anni di concentrazione della scuola E-Levita. La seconda cosa, come è un'occhiaire, è una cosa che è la nostra professione della prezegno, ma è il momento del ruminato. E poi, come è un'occhiaire, come è un'occhiaire, come è un'occhiaire, come è un'occhiaire, come è un'occhiaire. E io, mi chiami sempre, cominciare con la parola a Dio, come abbiamo consentito oggi. Ogni promettica la Chiesa è un po' particolare per aiutarci a crescere nella vostra fede, con le cristiane. E certamente siamo arrivati in questa Chiesa perché siamo tutti eventi di Dio. E siamo accorgati a ciò che abbiamo professato nel Dio del nostro mortesco, con il Dio del nostro mortesco, con il Dio del nostro mortesco, e che vediamo con il nostro libro Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa è la professione di Dio, di Dio del cristiano. Ma oggi le nostre prece insegnano dopo aver professato questa fede, con l'autodiamo applicarla soprattutto nella nostra vita quotidiana. La prima età di oggi ci invita ad esercitare la giustizia sociale. Ricorda il popolo di sabere che loro erano stranieri, che erano forse una volta, ma il Signore è stato con loro e li ha trattati con l'amore. E quegli anni da dove la loro vita dovrebbero trattare tutte le persone con l'amore, con il Signore, con l'amore. E questo è importante con i nostri presenti, che la prima volta, la prima via del Signore della nostra fede non è solo confessare con la moda, ma è evitare questa fede soprattutto nella relazione con gli altri e soprattutto di chiudevole che abbiamo intorno a noi, di poveri, di malati, di persone che abbiamo limitato nella società, e di naturale che abbiamo distribuire la nostra fede. E il nostro mondo, il Signore, ha detto non ci trattiamo tutte le persone che abbiamo importanti bene nel nostro amore, ma è stato un'attività che può essere una responsabilità della nostra unità. Se hai una persona che condizia la tua barba, come è l'opera? Se hai una persona che condizia la barba, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera. Se hai una persona che condizia la barba, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera. Se hai una persona che vorrei fare a nessuno di voi, come è l'opera, veramente vediamo il Signore con tutta la nostra forza. Abbiamo il Signore più di tutti questi mezzi di comunicazione sociale che possiamo scegliere la protezione e forzare, che è l'opera, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera. E poi, Gesù, che vi abbiano anche, vi abbiano anche la barba, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera, come è l'opera. Grazie.